ciao a tutti e benvenuti sul mio canale la riti dell'uncinetto io sono rita vi ringrazio tantissimo che mi seguite sul canale e oggi voglio farvi vedere una maglia prima di consegnarla a una signora una maglia un maglioncino da donna fatta con delle trecce davanti le maniche semplici eppure il dietro adesso qui devo ancora attaccare poi una manica comunque è rimasto un lavoro che sono rimasta soddisfatta una lana morbidissima un po pelosetta ma facili da lavorare che ho lavorato con i ferri numero 5 spero che anche questa signora sia contenta glielo fatta vedere un po pezzi mi ha detto che gli piaceva che era di suo gradimento e così ho pensato di condividerla con voi dopo più messo anche tutti i fogli e le foto della maglia che ho fatto così se volete anche voi provare a farla vedrete che che riuscite benissimo e per la manica e per lo scalpo vi dico di guardare anche il gilet che avevo fatto prima negli altri negli altri video e vedrete che vi viene perfetta la maglia spero che questo progettino vi possa piacere vi ho messo tutte le foto che potete seguire e spero che andate a vedere vi saluto vi ringrazio di cuore ciao a tutti al prossimo video ciao 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 ciao